salve care amiche ed amici qui un'altra volta il vostro santo in chan vi saluta e vi chiederete che cosa avrò da parlare oggi e me lo domando anch'io infatti non mi sono preparato come al solito un discorso ma vado a ruota libera tanto è passato un giorno dall'ultimo video o due e quindi purtroppo le notizie dal telegiornale sono sempre le tragiche notizie di sempre per quanto riguarda la strage di palestinesi che nessuno la può fermare neanche le nazioni unite di ban ki-moon per quanto riguarda poi altri episodi continuano come sempre per esempio della siria non si parla più ma i conflitti continuano della libia si è tornato a parlare per la bestiale e recludescenza della violenza ma ci sono conflitti in espansione in africa tanto nella regione del maghreb come quella subsahariana aumentano i conflitti e le ostilità in tutto il mondo se ne parla poco o nulla perché se ne può fare poco o nulla beh allora così diciamo anche la cronaca italiana i fallimenti i debiti di molte industrie si fa poco o nulla sembra che tutto il primo piano dei rotocalchi informativi lo occupano i partiti politici italiani che fanno ben poco o nulla per meritarsi tanta attenzione ma sembra che la rai continua a essere lottizzata dai partiti politici per quello renzi si renzi no berlusconi si berlusconi no che addirittura dovrebbe adesso fare i domiciliari prima l'hanno mandato a lavorare nel geriatrico e poi non si sa che si inventeranno grillo si grillo no con le sue battute insomma un guazzabuio tutti si rimpastano non si risolve nulla i veri problemi del paese non si discutono perché tutto questo chiacchiericcio c'è il monopolio dell'informazione il resto è marginale e purtroppo nessuno risolverà mai nulla la cosa miratrista vabbè poi di che posso parlarvi niente che anche la crisi in ucraina vede il nostro paese molto coinvolto nel fare quello che è il caratteristico dei politici italiani di questo periodo nulla infatti come rappresentiamo la nostra posizione se non abbiamo una posizione da rappresentare seguiamo a ruota libera come nell'intervento libico quello che fanno gli altri paesi per stare a tono poi appena potrò registrerò l'istruzione di buddha nuovi capitoli volevo parlare delle vibrazioni nella meditazione nel mantra yoga le vibrazioni dell'om che questa campagna tibetana riproduce il suono vibra come a riprodurre un home che va smorzandosi questo favorirebbe gli stati meditativi ho coltivato da giovane molto interesse e molti interessi per queste attività per la meditazione e lo yoga mi è sempre piaciuto molto il buddismo l'induismo il taoismo il tantrismo anche se da un punto di vista antropologico da un punto di vista culturale perché sono sempre stato rateo oggi è venerdì nulla di speciale poi un nostro amico mi ha chiesto adesso trovo perché non mi sono organizzato un nostro caro amico che mi segue da lontano vediamo se riesco a trovare e no ma inna c'è vabbè vediamo forse qua ecco scusate ma il cellulare un po lento il nostro nicola franceschi mi dice ciao san perché non fai qualche bel video dove parli di cinema d'autore che sono felini bergman frassica o quello che preferisci magari grosso mart che su essere molto amato in argentina e io gli rispondo ciao amico nicola franceschi e grazie del tuo commento commentario sicuramente parlerò di cinema in quanto a nino fransica parzialmente già ho fatto commentare sul suo libro gesualdi che non mi da libro di sani gesualdi già fatto commentario commentando sul libro di sani gesualdi magari parlerò del programma televisivo indietro tutta per quanto riguarda i gusti degli argentini o degli stranieri non lo so so che gruccio marzo ebbe successo anche da noi in italia assieme a mel brooks e jerry lewis io sono di casal paloco e da piccolo mi piacevano da impazzire staglio e soprattutto per il doppiaggio di sordi ed un altro attore che pure rassomigliava molto a staglio anche di loro parlerò in un prossimo video ecco quindi grazie a nicola franceschi per avere commentato il mio video titolato santa cian anticipa contenuto nuovi video e come gli ho detto dovrò fare un video su staglio olio il mio problema sarà trovare se c'è qualche video che potrò incorporare nel mio in common creative perché altrimenti poi ti pignolano i diritti d'autore e poi volevo parlare della faccenda che in brasilia si sono impantanati in un altro mazzi a palto perché neanche escono dai mondiali di calcio che già devono organizzare nel 2016 i mondi le olimpiadi è veramente non so come si vendrà tutta questa storia probabilmente ci avranno uno stagio sociale poi gli ameri dei paesi dell'america latina stanno per andare in default perché non pagano i loro debiti è una situazione tragica per i popoli e addirittura nazioni unite interviene per mediare però bisogna vedere che le banche vogliono loro soldi indietro comunque beh niente ho fatto questo video per mantenermi in contatto con tutte e tutti voi per dirvi che vi ringrazio di seguirmi e quindi alla prossima magari oggi o domani farò un video parlando di qualcosa per adesso vi mando i miei migliori saluti e grazie di tenerli in contatto con me ciao dal vostro sente già